I sigilli che vedete a delimitare l'area dell'ex conservificio di Venafro sono lì da sabato scorso, allorquando, a seguito di un esposto risalente al giorno prima, l'ispezione della forestale aveva fatto scattare il sequestro giudiziario. In quel che resta di quella struttura di proprietà del comune, ormai ridotta ad un fatiscente rudere, sarebbero stati rinvenuti rifiuti speciali, soprattutto pneumatici esausti, stoccati in gran numero all'interno dell'area dismessa. Ad accorgersi dell'ingombrante e potenzialmente pericoloso carico, una squadra di operai comunali nel corso di uno dei controlli periodici all'edificio. E sì, perché quel capannone è stato acquistato nei primi anni 2000 dal comune di Venafro, un'operazione finanziaria importante per le casse comunali che da subito generò perplessità e polemiche circa l'opportunità dell'acquisizione. Intanto l'ente di piazza Cimorelli sta continuando a pagare le rate del relativo mutuo. Perplessità e polemiche alimentate negli anni a seguito dell'assenza di qualsivoglia intervento di riqualificazione dell'area. In 15 anni diverse le idee, neanche tantissime per la verità, mai tradottesi però in progetti veri e propri e soprattutto mai in azioni concrete. Si era pensato ad un centro agroalimentare da costituirsi accedendo a fondi regionali. Addirittura si ipotizzò la creazione di un grande laboratorio di cultura regionale. Sarebbe dovuto diventare una sorta di hub culturale, un punto di riferimento in grado di accogliere e valorizzare le spinte e le energie dell'associazionismo del territorio. Niente di tutto questo è accaduto. Di anno in anno le uniche tra virgolette novità riguardanti la struttura sono quelle relative al suo lento, progressivo e, a causa dell'immobilismo delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni fino a quella attuale, inesorabile degrado. Intanto il recente sequestro giudiziario, in attesa delle indagini della forestale, fa ritornare sotto i riflettori la questione dell'inquinamento ambientale della Piana di Venafro.